Oggi è il 6 di dicembre del 2015 e sono venuto qui allo stadio per la partita Sampdoria-Sassuolo. Tanto per cambiare le cose non cambiano, la povera gente viene sempre usata dai più forti, a meno, così si credono. Io non so se voi delle generali vi volete trovare tutto il mondo contro, cioè ci state riuscendo pian pianino, ma veramente, Genova, la Liguria e tutta l'Italia saranno sempre liberi, ma proprio sempre, cioè non se ne parla minimamente, assolutissimamente, noi non siamo qui, anzi il calcio a questo punto non c'entra più niente, non ce ne frega più niente del calcio, cioè siamo esseri umani, ci sono bambini, ci sono donne, ci sono anziani, cioè questa è la nostra vita, non il denaro, il potere e i soldi, assolutissimamente, vi combatteremo, vi ostacaleremo ovunque.